Stiamo lavorando tutti i giorni perché comunque più giocatori offensivi, più giocatori di qualità riuscirò a mettere in campo e meglio è. Però poi c'è un equilibrio di squadra, c'è la condizione dei giocatori, il calcio non è un'equazione matematica, perché altrimenti sarebbe tutto facile e capisco che tutti questi discorsi vanno bene, però dopo c'è da metterli in campo, c'è da fare risultati e quindi devo cercare di valutare anche il momento e la condizione dei giocatori, però l'importante è avere nella rosa giocatori come Chiesa, come Federico, che sicuramente sarà un giocatore importante a cui alla fine, come lo sarà per la nazionale e all'europeo, come Ildiz comunque che ha 18 anni, che ha già giocato un po' di partite all'Iventus e come tutti gli altri. Tutti insieme bisogna riprendere già da domani facendo fatica, perché domani ci sarà una partita molto faticosa, come tutte, ma in questo momento ancora di più a mettere un pochino più di attenzione.